Belle chiacchierate a Biagio Mannino, buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Eccoci a riprendere le nostre belle chiacchierate, ovviamente parliamo sempre un po' di tutto, ovviamente avevamo lasciato dei temi nella giornata di ieri, uno in modo particolare, che poi si aggancia anche a tutta una serie di considerazioni che potremmo fare su le elezioni in tutto il mondo che stanno prendendo una piega un po' particolare. Parliamo di Brasile, perché insomma ci sono state le elezioni, ma anche lì sembra di rivedere un po' le ultime elezioni americane, con tanto di proteste e quant'altro. Bolsonaro, Lula, insomma cosa sta succedendo in questo paese? Ci sono state le elezioni in Brasile, come dicevi tu, un periodo estremamente lungo, una campagna elettorale particolarmente intensa, dove non sono mancate le forti contrapposizioni, contrasti estremamente anche accesi, non solo tra i due candidati, ma tra le parti che li appoggiano e che hanno messo in evidenza come il Brasile sia sostanzialmente spaccato in due, non solo nelle componenti della società, di chi appoggia Lula da Silva da una parte e Javier Bolsonaro dall'altra, ma anche effettivamente nei voti, perché in occasione del ballottaggio sono sostanzialmente pochi i voti che differenziano i due candidati l'uno dall'altro. Vince Lula con, come detto, uno scarto minimo rispetto a Bolsonaro, ma i contrasti sono ben che presenti, perché si attende con particolare attenzione che da parte di Bolsonaro arrivi un segnale di riconoscimento della vittoria di Lula, cosa che non è affatto arrivata. Ieri c'è stato il suo discorso, dopo 48 ore dalla chiusura delle urne, Bolsonaro ha utilizzato un meccanismo di comunicazione politica particolarmente complesso, perché richiede di essere interpretato, ovvero dice che si atterrà alla Costituzione e questo ovviamente è un segnale molto molto importante, ma non riconosce però la vittoria di Lula. Allora qua bisogna entrare nell'interpretazione un po' delle parole di Bolsonaro, così come a quanto sta accadendo in Brasile, perché immediatamente dopo il voto ci sono stati degli scontri nel contesto basiliano, sono stati portati dei blocchi stradali, soprattutto nelle principali città del Brasile, sono ben 20 gli stati che compongono il Brasile che sono stati coinvolti in manifestazioni di chi appoggia appunto a Bolsonaro e di fatto dall'altra parte si teme anche che le forze più vicine a Lula, in particolare i sindacati che guardano a Lula come un punto di riferimento, scendano anche loro in piazza provocando così degli scontri accesi in modo concreto per le vie, per le piazze delle città brasiliane. E qui subentra quel attenersi alla Costituzione, da parte quella frase di attenersi alla Costituzione portata da Bolsonaro, perché l'articolo 142 della Costituzione brasiliana prevede l'entrata in scena delle forze armate nel momento in cui le istituzioni non trovano un punto di accordo, non solo non trovano un punto di accordo ma ci sono anche delle situazioni di particolare confusione e caos e da qui le problematiche. Le problematiche perché se da un lato Lula ha vinto le elezioni, dall'altro la posizione che Bolsonaro in questo momento sta tenendo è quella sostanzialmente da un lato dell'ambiguità e dall'altra parte anche della non accettazione. Insomma il Brasile in questo momento sta entrando in una fase di caos vero e proprio, ma quello che in ogni caso è importante per quanto riguarda la realtà brasiliana è comprendere l'importanza stessa del Brasile. 215 milioni di abitanti, uno dei paesi più popolosi al mondo, uno dei paesi più estesi al mondo, ma soprattutto la sua posizione geografica. La posizione geografica che si colloca dominante se vogliamo nell'area dell'America Latina che interessa molto alla Repubblica Popolare Cinese, cosa che invece agli Stati Uniti non va assolutamente. I posizionamenti della geopolitica post-2020 stanno vedendo tutto questo movimento nel contesto globale e così la Cina si muove anche nel contesto dell'America Latina. Ebbene questo dà ulteriore rilevanza alle elezioni brasiliane proprio per cercare di capire il Brasile da che parte poi andrà. E qua ritorniamo anche all'Europa, ovvero quel conflitto Ucraina-Russia, quelle contrapposizioni di cui tante volte abbiamo parlato e di cui parleremo ancora a lungo. Ebbene i BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ai quali si aggiungerà anche a breve l'Ira, danno l'idea proprio del mondo che si sta spaccando in due. Si sta spaccando in due sotto tutti i punti di vista, da una gestione economica, finanziaria, fino a quella appunto di un controllo militare del contesto globale. Ebbene tutto questo dà un'importanza superiore ovviamente a quella di altre occasioni, ma questo evento elettorale in particolare mette in evidenza come il Brasile si è diventata una realtà sempre più strategica nel contesto globale. Il Brasile dunque grandi contestazioni, ma mi sembra che un po' in tutto il mondo ci sia un problema quando si arriva al punto delle elezioni, perché quasi sempre non viene accettato il verdetto delle urne. come mai secondo te incomincia in questa cosa che è un atto democratico, quella delle elezioni, cominciano a vacillare? Come mai le persone non accettano più quelle che sono i risultati dalle urne? Effettivamente l'osservazione che fai è assolutamente pertinente, perché in definitiva noi stiamo assistendo nelle ultime occasioni elettorali, anche in quelle realtà dove la democrazia è consolidata, paesi che si sono mostrati come i portatori dei principi democratici, si trovano ad affrontare delle situazioni quantomeno imbarazzanti di contrasti di non accettazione dei risultati elettorali. Tutto questo accade anche recentemente, ritorniamo sempre a quel punto fondamentale, quel punto di rottura nel cammino dell'umanità contemporanea, ovvero quel 2020, che con la pandemia che ha rappresentato la fragilità del mondo rispetto alle problematiche legate alla salute, ha mostrato invece una fragilità del mondo rispetto alle problematiche sociali. Ed ecco che l'esempio che in questo momento può venire alla memoria è rappresentato dalle elezioni statunitensi del 2020, e stiamo parlando solamente di due anni fa, quando Donald Trump e Joe Biden si confrontavano, anche lì una campagna elettorale estremamente accesa, con dei toni di contrapposizione netti, senza la possibilità di arrivare a nessun effettivo confronto che riguardasse anche un eventuale percorso di rasserenamento di un contesto sociale. Ricordiamo che gli Stati Uniti vivevano anche quel momento di particolare intensità di scontri sociali. George Floyd, tanto per rendere l'idea, riportare a memoria un nome, una vittima dei contrasti sociali che avvenivano negli Stati Uniti. Ebbene, Donald Trump non accettava il risultato delle elezioni, anche lì il paese è spaccato nuovamente in due, un percorso di contrapposizioni ulteriori alla campagna elettorale fino ad arrivare a quell'assalto al congresso il 6 gennaio del 2021, dove di fronte a una folla di personaggi, anche particolarmente così originali, con maschere e vestiti in tutte le maniere, e ci sono state comunque in ogni caso cinque vittime e l'atto dell'assalto al congresso, del congresso americano, ha messo in evidenza come le democrazie poi di fatto si trovino ad affrontare una fase di transizione. Il problema è che la società oggi, dei contesti tradizionalmente democratici, sta vivendo un momento che richiede alla politica un'assunzione di responsabilità nei termini del rinnovamento. Forse siamo giunti in un momento in cui i diversi contesti delle politiche nel mondo richiedono, come diceva Gorbachev, un'effettiva perestroica, un rinnovamento di tutti gli assetti che invece stenta a venire. E la delusione da parte degli elettori si vede sempre di più perché si avverte sempre con il passare del tempo, con le occasioni elettronali, un allontanamento poi effettivamente tra chi è rappresentato e chi rappresenta. E tutto questo poi nel lungo periodo rappresenta anche una perdita, una perdita di contatto con la realtà, con la realtà sociale, e non fa nient'altro che aumentare poi quell'altro fenomeno che abbiamo visto anche in Italia, rappresentato dall'astensionismo. In Italia anche qui ci sono delle contraposizioni molto forti. Pensiamo che il governo Meloni non si era nemmeno insediato, già venivano occupate le scuole che paventavano un ritorno ai periodi bui del ventennio scorso, dell'autor scorso secolo, eccetera. E anche in queste ultime ore, di fronte a delle chiare richieste da parte del governo di mettere ordine su determinati casi, mi viene da pensare al rave party, eccetera, le opposizioni fanno un'opposizione un po' particolare. Tu cosa ne pensi di questo isterismo che sta prendendo la politica italiana? La politica italiana si mostra estremamente confusa, diciamo, e soprattutto con una memoria anche molto, molto, molto corta, perché poi, in definitiva, sebbene in Italia non ci sia stato un problema di accettazione del risultato elettorale, è iniziata un'opposizione molto astratta, dobbiamo dirlo questo, perché è basata su principi che richiamano sicuramente forti elementi storici che hanno rappresentato per Italia delle problematiche decisamente importanti e drammatiche, ma è altrettanto vero che in questo momento storico andrebbero viste le cose per quelle che sono in questo momento storico, tant'è vero che un'opposizione portata a una realtà che doveva ancora incominciare il suo percorso rappresenta anche un non rispetto, poi sostanzialmente, proprio del voto dei cittadini. Ed è qua il problema che avviene un allontanamento, proprio come dicevamo prima, nel corso della legislatura 2018-2022 i cittadini italiani votavano per forze che si contrapponevano per poi trovarle tutte quante assieme ad appoggiare il governo Draghi e questo ha creato ovviamente una sorta di perdita dell'orientamento, di una mancata comprensione di poi effettivamente dove potesse andare la politica. E la politica è andata anche in quel percorso che è diventato problematico e che si cerca di fare in modo di dimenticare in tutti i modi, ovvero il periodo 2021-2022, perché fa un po' sorridere da parte soprattutto della sinistra in questo momento e imputare al governo neoentrato delle responsabilità di restrizioni riguardanti soprattutto la libertà di manifestare quando nel bienio 2021-2022 possiamo testimoniarlo anche noi qui a Trieste che abbiamo vissuto con grande intensità alla fase dei movimenti quanto sia stato fatto proprio per impedire quelle manifestazioni. Voglio ricordare per quanto riguarda gli aspetti di Trieste che addirittura la piazza Unità, il punto centrale, veniva interdetto alle manifestazioni per poi arrivare anche a quel decreto che portava le manifestazioni nelle meriferie per renderle più lontane possibile in nome sempre dell'emergenza ovviamente pandemica. Come dire, in nome dell'emergenza pandemica le restrizioni c'erano e quel percorso della libertà di manifestare veniva fortemente limitato. Insomma, le problematiche ci sono e andrebbero affrontate con la dovuta attenzione e soprattutto con un punto di vista che metta sul piatto della bilancia quanto effettivamente è stato fatto. In questi momenti la necessità è quella di vedere come vanno le cose ovviamente non opporsi a prescindere ma opporsi per cose concrete e qua dimostra anche il percorso che il Movimento 5 Stelle sta assumendo di grande ascesa nell'ambito dei sondaggi perché punta maggiormente agli atti in sé piuttosto che al contesto generale cosa che sta facendo il PD ma che lo sta penalizzando nei sondaggi. molto chiaro un caro viaggio abbiamo toccato dei temi che sono diversi ma che si concatenano fra di loro ovviamente dal punto di vista della politica e della democrazia. Io ti ringrazio noi ci ritroviamo domani come sempre. Benissimo ciao Graziano ciao Ciao